Abbiamo parlato di questo e mi ha detto che è contento di stare qua, che non sa cosa succederà a gennaio o tra un anno, ma vuole stare ancora qua, se poi qualche proposta arriverà al club o al giocatore ne parleranno insieme. Parliamo molto e non è bello leggere tante notizie su questo argomento, è una cosa di cui parlarne durante il nostro mercato. Penso che sia difficile per tutti i giocatori leggere tutti i giorni e vedere tutti i giorni che potresti lasciare il club. È un grande giocatore e un grande compagno di squadra.